bene ragazzi sono partito da uno sguardo bellissimo che è lo sguardo di django che io l'avevo sempre visto in foto finalmente lo vedo dal vivo siamo qui nello stand di christian e lo conosciamo christian ormai è un amico free sound custom massa rosa le bimbe che vedete in sovraimpressione le conoscete benissimo andate sui nostri vecchi video e trovate anche il video specifico la puntata tutta dedicata a loro christian ci vediamo sempre più spesso ormai ma meno male meno male che sarà passato questo queste questa periodaccio che abbiamo vissuto tutti quantomeno sembra che stia passando quindi spero di vederti sempre più spesso ci vediamo ci vedremo sempre spesso io ti vedo anche sui social che ora christian natal fashion lo vedo con capelli short tuttora sembra ho detto ma che se ha diventato un modello che ha abbandonato le moto ora ti vedo sempre più perché da bimbetto sempre ho avuto capelli lunghi e ora siccome sono alla soglia dei 50 ho detto ci provo finché sarò tutto bianco però però non li dimostri per niente non l'avrei detto siamo quelli che siamo ancora fortunati probabilmente la passione ci rende un pochettino più giovane allora parliamo intanto della tua presenza qui alle spomotori da ciccio come ti sei trovato per ora ma benissimo come sempre come sempre benissimo l'expo motori di ponte d'era secondo me è un per la toscana è un bel proprio un bel punto proprio un bel una bella esposizione fatta bene divertente organizzata bene spaziosa coperta ma cosa vogliamo dire poi giochiamo in casa noi e un pochino sì pochino pochino ora io sono insomma la toscana è sempre 40 minuti è non è che ci vuole comunque siamo toscana l'ultima volta eravamo a verona che ci siamo trovati adesso siamo in toscana ragazzi niente vi lascio le immagini di queste due splendide creature l'altra l'abbiamo l'abbiamo vista con mickey prima al bike show abbiamo fatto abbiamo parlato un po dell'altra bambina che noi avevamo già vista a verona lì ci ha pensato mickey e sì 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 va bene sì è ganza è la lì sì sì poi vecchia poverina per essere insomma una moto è 84 anni la moto lì è cioè questo lo dico anche a lamberto sai lamberto la moto che prima mickey ha iniziato a 84 anni cioè ragazzi 84 anni e christian l'ha resa gli ha dato una nuova vita perché non li dimostra proprio come te sì ma che ho 84 anni però non ne dimostri 50 no spero di no però ora provo insomma ora sì 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 provo provo a vedere se addio addio sta scappando riprendi anche perché non è proprio il cane di lamberto non è leone lui è mi vi mando in sovraimpressione la foto di leone lui è un po più grosso di leone allora allora cristian io direi che ti lascio mangiare perché hai fame tanto delle tue creature ne abbiamo parlato tantissimo qui da p da pontederra pisa è tutto direi rock and roll rock and roll grazie a tutti